io non ne tengo nessuna a te piace fare queste cose a me non mi piace mi piace molto eh chi ti pensa a tavola ti ripieghi gli atti da guarda praticamente questo è il zoom tu mettono le cose schiacciate è bello già c'è a potenza non c'è niente chi è chiaro eh lo so aspetta vado a vivere un po' attiva vai qui là ci vedi là? si è vero è vero è vero Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.